Ciao a tutti, nel video di oggi vorrò semplicemente dire una cosa, come voi vivete la composizione? Questa è una cosa di cui in altri video non ho mai parlato, ma è importante come voi sentite la composizione, cosa trasmette la composizione? È un modo di vivere, è realmente un modo di vivere, fa parte di voi, è come quando parlate, espugnete, usate delle parole come le note, usate delle parole e le espugnete. La stessa cosa è la composizione, la composizione, guarda, la composizione si tratta proprio in piena, quelle che sono le vostre emozioni, le vostre emozioni, e trasformarle in arte, in musica, per farlo la composizione, parte di voi, per quello tutti i giorni con gli esercizi, tutti i giorni, anche quello di un esercizio di cantare, quando si sta, se fa esercizio fisico, come un esempio, un altro esempio, potremmo essere cantare in macchina, cioè, durante delle attività, durante delle attività, come appunto, questo è un esempio proprio stare in macchina, invece di ascoltare in mente, o ascoltare i biglietti interessanti, o mettersi a fare, proprio, in posizione, cioè, stare di canticchiare, suona deve, per gli occulti, diventano una cosa tua, e ci sono bella, questa amabilità, per gli occulti, se vi aggierà, ci sono? Grazie.